Eccoci qua signori, oggi parliamo del metodo risultati esatti, veramente un argomento molto molto interessante, mi avete chiesto un video e vi mostro i risultati, i numeri che si possono fare con i risultati esatti con degli esempi concreti, con dell'analisi passata all'interno di Football Pro 2.0, vediamo come hanno guadagnato i clienti di Football Pro e diamo delle spiegazioni molto importanti che vi aiuteranno sicuramente a poter individuare i corretti risultati esatti all'interno di una partita. Ma prima di iniziare iscrivetevi al canale YouTube assolutamente, cliccate sulla campanellina e condividete il verbo del professionismo. Iniziamo subito, questo che stai vedendo è lo storico di Football Pro 2.0, è lo storico del ciclo che stiamo per concludere, siamo a 48 analisi, concluse effettivamente, qui possiamo vedere i risultati in termini economici raggiunti dal prodotto, questi sono i soldi che fanno i nostri clienti seguendo il mio prodotto professionale, la mia operatività personale e guardate qua, risultato esatto 0 a 3 per il Real Madrid femminile, quota 2.17. Allora, iniziamo subito a capire cosa vuol dire operare professionalmente sul mercato, andiamo a prendere il Real Madrid femminile e andiamo a vedere cosa è successo. Se noi entriamo nella comparazione quote, andiamo ad osservare che questo match in realtà come quota di valore non riservava grossi opportunità, perché il mercato era abbastanza limitato. Come vedete la quota dell'over 2.5 era assolutamente ridicola, una quota che è anche scesa prima che il match iniziasse, l'Asian Handicap non regalava grosse opportunità, come potete vedere con la quota, mentre noi siamo andati a prendere una quota a 2.17, quindi cosa fa un professionista in questa situazione di mercato? Non può lasciarsi sfuggire un match così interessante e va a cercare del valore, in questo caso va a cercare del valore sui risultati esatti, il Bet365 è un ottimo Boku Maker perché offre delle quote di valore molto interessanti su alcuni di questi match e quindi cosa fa un professionista? Si va a costruire una quota, una quota interessante e una quota di valore, in questo caso siamo andati a prendere il risultato esatto e abbiamo vinto il risultato esatto a 2.17, la quota 2.17. Se noi entriamo all'interno del prodotto professionale Football Pro 2.0 vediamo che in realtà però i risultati esatti che sono stati passati, che ho passato all'interno del prodotto, sono brand 3. forte del fatto che il Bredra Blick femminile non avrebbe mai segnato, comunque le probabilità erano estremamente basse rispetto poi alle quote, alla quota offerta sul risultato esatto, siamo andati a prendersi lo 0.2, lo 0.3, lo 0.4, io non entro troppo nel vivo di questa operazione di mercato proprio perché non posso spoilerare informazioni di altissimo valore, informazioni che si trovano all'interno di manuali professionali, di manuali che vi permettono di guadagnare. Se volete avere informazioni su questi manuali vi invito a scrivermi qua sotto, trovate il mio contatto Telegram, potete tranquillamente iscrivervi e vi aiuterò ad acquistare questi manuali. Ma tornando a noi, questi sono i risultati, ovviamente il risultato più probabile per quello che avevamo valutato era lo 0.3 effettivamente, e lo 0.3 è proprio il risultato che si è manifestato in tutta la sua bellezza e che ha permesso ai clienti di guadagnare delle cifre molto interessanti. Come state vedendo qui, avevo anche dato delle informazioni estremamente dettagliate, come sempre, sullo stake da andare a investire, con delle informazioni ancora più al millimetro, e qui è fatto riferimento a un altro match, il Vietnam ad esempio, che andremo a vedere fra poco, ma vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante. Allora, cosa succede? Succede che se noi andiamo a osservare le quote di questo match, voi noterete che le quote, in realtà, la quota del gol-gol da 2.70, per esempio il caso di Granitwin, è scesa a 1.47 prima dell'inizio del match. Questo anche perché molti scommettitori amatoriali, ludopatici, alle prime armi assolutamente che cercano di scimmiottare l'operatività di un professionista, hanno pensato bene di andare a guardare le solide e classiche statistiche. Quindi se noi andiamo a vedere questa squadra, questa squadra qui, nel proprio campionato, è una squadra che ha il miglior attacco. Adesso ve lo faccio vedere meglio, allargo, anzi sposto un po' la schermata, questa è una squadra che ha il miglior attacco. Quindi voi capite bene che con questa squadra, gli scommettitori, guardando queste statistiche, miglior attacco di Islanda, dicono ok, questa squadra segna, questa squadra è impossibile che non possa segnare la Madrid, che invece effettivamente ha una buonissima difesa. Quindi cosa hanno fatto? Questo flusso di scommesse in questa direzione che ha fatto? Ha fatto abbassare la quota ovviamente del call call, che come avete visto è praticamente, è praticamente, andiamo a rivedere insieme, che diretta.it ci fa un po' impazzire, come vedete è praticamente droppata, calata vertiginosamente, a dimostrazione che non tutte le quote che crollano, ovviamente, ma nemmeno a dirlo, sono delle valuables, sono delle quote di valore, quindi fate molto attenzione anche a questo. Da 2,70 a 1,47, un flusso anomalo di scommesse enorme, proprio perché la maggior parte di scommettitori guardando al calcio femminile che non lo conoscono affatto, hanno visto che questa squadra segna tanti gol nel proprio campionato, segna tante reti, anche andando a guardare quelli che sono comunque i testa a testa, quindi andando a guardare quello che fa la squadra solitamente, allora hanno pensato bene guardando alle statistiche di dire, ah, ma questa squadra qui, questa squadra qui fa tanti gol, poi però se andate a vedere nel dettaglio la situazione già era diversa nell'ultimo periodo, soprattutto nella competizione, quindi capite bene che guardare alle statistiche, questo è il classico esempio in cui tanti, anche in virtù del fatto che tanti scommettitori operano con le statistiche, operano in maniera totalmente, da l'utopatici sostanzialmente, vanno a interferire anche con le quote di un match sul calcio femminile che spesso non conoscono. Stiamo parlando del calcio femminile, abbiamo preso un risultato ottimo a 2,17, ma un'altra cosa molto importante con una quota a 2,17, un'altra cosa molto importante che vi faccio vedere è il Laos-Vietnam, in questo caso parliamo di un altro mondo sostanzialmente, lo andiamo a vedere insieme, andiamo a vedere l'operazione di mercato e adesso vi faccio vedere la ricerca che si fa, perché non posso ovviamente spoilerare le operazioni di mercato, andiamo qui, perché ci sono delle operazioni di mercato in corso e anche qui, la quota del no goal era una quota assolutamente ridicola, quindi i bookmaker comunque in linea generale avevano letto benissimo le quote del match, quello su cui potevamo andare a lavorare era allo stesso modo andare a comporci una quota, una quota molto interessante, lavorando con risultati esatti forti del fatto che il Laos è una squadra ridicola e non poteva segnare al Vietnam, quindi abbiamo giocato lo 0,2, 0,3, 0,4, andiamo in questo modo e il risultato finale lo possiamo andare a vedere tranquillamente qui, su diretta.it lo possiamo andare a vedere ed ecco qua, finita 0,2 con il primo parziale finito 0,1, me la metto qua. Quindi come vedete questo è quello che succede. Operazione passata, anche qui in questo caso abbiamo preso una quota pulita 2, una quota che ci siamo andati a costruire andando a colpire il mercato laddove non era stato estremamente preciso, tanto da quotare bene in generale il match ma lasciare delle falle sul risultato esatto, falle che siamo andati a sfruttare servendoci sempre i bet365, vi sto dando informazioni estremamente rilevanti e siamo andati a guadagnare, tant'è che lo storico di Football Pro testimonia un risultato di 0,2 a quota 2. Quindi questo è il professionismo signori, Football Pro ricordo che è disponibile solo nella sua versione annuale, proprio perché vogliamo investitori. Quello che stiamo vedendo qui è solo lo storico dell'ultimo ciclo, l'ultimo ciclo che ancora dobbiamo chiudere, ma i cicli termineranno da ora in poi, non ci saranno più, stiamo portando a rinnovo, sto portando a rinnovo questi ultimi clienti che hanno acquistato la menzione mensile, decine e decine di persone hanno acquistato già la versione annuale, oggi anche altre tre persone hanno acquistato la versione annuale, quindi la versione annuale prevede 600 analisi di mercato per 600€, è un prezzo ridicolo, un prezzo che è destinato a crescere drasticamente sul mercato, per me il prezzo effettivo di questo prodotto sono 1500€ l'anno, perché vi faccio vedere poi in un altro video, il prossimo video vi farò vedere quanto guadagna un cliente seguendo solo per 10 mesi e non per 12 mesi, quindi non con l'abbonamento annuale e non raggiungendo le 600 analisi, perché parliamo di 470 analisi, quanto fa di profitto? Per lo spoiler adesso 8-9k di profitto netti, 8-9k di profitto netti, quindi 9000€ netti a fine anno, questo senza considerare l'interesse composto e l'utilizzo del nuovo money management che non spoilerò qui, che andremo a utilizzare da qui in avanti, quindi capite bene l'importanza la forza di questo prodotto, l'unico prodotto, a parte strapagato, strapagato perché giustamente il prodotto è di valore e quindi l'unico prodotto che si permette di consulenza sul betting tenuto da un professionista di altissimo livello che si permette di essere pagato, noi siamo l'unica azienda a farlo, BetSystem è l'unica azienda a portare avanti i prodotti di questo tipo, l'unico prodotto che ti permette di guadagnare su base annuale investendo seriamente sui mercati sportivi che ragazzi voi potete andare in giro per il mondo a cercare i migliori investimenti, questi rendimenti con questo drawdown e un rischio così basso non li trovate da nessuna parte, questo è il professionismo, questo è il sottoscritto Cristian Rocconi, questi sono i risultati del prodotto, per ottenere la versione annuale sconto a 600€ contattatemi qua sotto, trovate il contatto Telegram, ovviamente non fatemi perdere tempo perché io come ho già specificato sono estremamente concentrato con l'operatività dei clienti e quindi i clienti si meritano il meglio e poi il costo del prodotto aumenterà quindi ragazzi capiamoci bene, io vi saluto e vi rinvio ai prossimi video, iscrivetevi e diffondete il verbo del professionismo, a presto, ciao!